La famiglia, comunità naturale fondata sul matrimonio tra uomo e donna, è il vero motore di ogni sviluppo economico. È fondamentale che i genitori possano scegliere dove educare i propri figli. A questo è servito il ripristino dei fondi alle scuole paritarie, che permettono allo Stato di risparmiare oltre 6 miliardi di euro l'anno. La casa non è un lusso da tassare, ma è il luogo dove ogni famiglia può vivere dignitosamente la propria vita. L'IMU sulla prima casa va abolita e restituita ai cittadini che l'hanno ingiustamente pagata. La detrazione IMU per i figli a carico ottenuta dal popolo della libertà e la battaglia per rivedere l'ISE si muovono in questa direzione, concepire la persona non come individuo singolo, ma all'interno di una serie di relazioni sociali, anche dal punto di vista fiscale. Quanti di voi nei dibattiti televisivi hanno sentito noi politici parlare della famiglia e della sua importanza? Non basta parlarne, bisogna metterla al centro, bisogna crederci, credere che la famiglia sia il pilastro fondamentale della nostra società. E ve lo dice uno come me e come tanti di voi che non solo hanno messo su famiglia, sono sposati da 26 anni e hanno tre figli. Questo è il futuro ed è questo quello su cui noi dobbiamo scommettere.